PokerStars.it presenta i home games online da oggi non dovrai essere nella stessa stanza per poter giocare a poker con i tuoi amici ritrova i tuoi amici per giocare insieme nel tuo clan privato di poker online scegli la tua partita controlla le statistiche dei giocatori e con la classifica scopri chi è il campione crea oggi il tuo home game online gratuitamente su pokerstars.it barra home games solo sul più grande sito di poker in italia